Salve a tutti, siamo qui al training camp con le squadre Ferrieri e Maldaluno. La partita è finita con un pareggio 5-5, una grande rimonta di Ferrieri al secondo tempo. Allora, chi è il capitano dei Ferrieri? Niente, abbiamo recuperato l'intesa che avevamo perso nella prima partita e speravo di fare ancora meglio, è un forte rientro a Bonadies che ha fatto due gol. Chi sei? Ferrieri, il capitano. Massimo Ferrieri, Paolo Venezia, Salvate Michele, Vincenzo Gallo e Fiora Luigi. L'ultima cosa, voglio ringraziare la squadra avversaria che per gli ultimi minuti ha concluso per il nostro infortunio. Ok, allora, adesso parliamo con la squadra vincitrice, Maldaluno. Ah no, hanno pareggiato, c'è stata una rimonta, mi l'ho dimenticata. Allora, Maldaluno, chi è? Tu hai fatto due gol. A chi li dedichi? La mia ragazza e alla squadra. Come si chiama la tua ragazza? Ciao Tonia, complimenti. Complimenti. E invece Fiorillo, a chi dedichi questo gol? A Spoltira Pertaglio, un grande mio amico. Tu come ti chiami? Paolo Venezia. E invece, vediamo un po' di Fiore, di Ferrieri, a chi dedichi questo gol? Vabbè, dedico al mio amico là che non mi avevo salutato. Ma vedo che mi fa così, quindi lo dedico a Fiorillo. Buonadies, che vabbè, ci dispiace, speriamo che si rimetta presto. Gallo? A tutta la mia squadra, ho speranza di fare ancora tanti altri. Va benissimo. Allora, complimenti a tutte e due le squadre, speriamo che vada sempre meglio. Allora, dimmi, chi sei? Tu chi sei? Salvati, Michele. Salvati, a chi dedichi questo gol? Stimolatore. Perché stimolatore? Eh, perché in campo me l'ha in capo e quindi... Al che mio mio amico ha segnato? Tu chi sei? Grazioli. Grazioli. Hai fatto due gol, complimenti. Hai visto. A chi li dedichi? Uno al mio amico, uno a Luciano De Gennaro, uno a Tabu. Vabbè, siete sentimentali comunque. Vabbè, allora un bacio a tutti e arrivederci.